Ciccarelli presenta Giorgia Moll in Carissima Giorgia, regina del Ghirighi, Ghirigo e di altre magie, vediamo se riesce a scoprire la magia di questa bacchetta. In che senso? In tutti i sensi, questa bacchetta ha uno strano potere, io la getterò a terra e nessuno di voi riuscirà a scavalcarla. E anche tu? Io sì, guardate, io posso scavalcarla ma a voi sarà impossibile. Ripeto, sfido chiunque e per primo Giorgia a scavalcare questa bacchetta magica e scommetto anche una cifra enorme, ci state? Un momento, aspettate, ci deve essere un sistema per rendere impossibile a chiunque il salto della bacchetta. Certo che c'è ma sei capace di scoprirlo? Dammi la bacchetta. Ho trovato, neanche tu che ti vanti di essere un mago riuscirai a saltare questa bacchetta e adesso mago se sei tanto bravo salta dall'altra parte della bacchetta se ci riesci. Brava, bravissima. Sono una ragazza che riflette. E allora, visto che sei così brava, ecco qua. Vedi questo mattone? Tu devi gettarlo giù con un soffio. È impossibile, è troppo pesante. Allora ti arrendi, tanto non ce la fai. Permetti, grazie. Vedrai che riuscirò a buttarlo giù con un soffio. Voilà, l'ho buttato giù con un soffio. Sei una cannonata. No, sono una ragazza che ragiona. Per questo uso la pasta del capitano, il dentifricio che dà il successo. Beh, adesso non esageriamo, però aiuta. Sapeste quanto aiuta la pasta del capitano? Perché rende i denti bianchi e profuma il respiro. Grazie dottore. E questa è la cera di cupra che fa la pelle liscia, giovane, vellutata. Vero Giorgia? Guardate come si è belle con un viso fresco e i denti bianchi. Per questo uso sempre cera di cupra e pasta del capitano. Sapeste quanto aiuta?